a Allora, un po' a pochi youtube sono indietro e benvenuti qua in questo nuovo e fantastico video dove non sarò io a fare Da giocatori in questo gioco ma è qualcun altro sarò io Sono Voxi, mi presento Voxi, per chi non sa chi sia è un volposo amico mio del fuori fan, chi lo sa lo avrà incontrato nelle mie live di Apex Perché giochiamo di solito ad Apex, preferisco soprattutto Apex rispetto a sto gioco perché è inquietante, mio santo Ebbene oggi siamo qui sul gioco P6, un gioco horror che avevo portato io mi sembra qualche mese fa e non riuscì a completarlo per il fatto che era inquietante Apex, io ho sfidato questo volposo a giocarlo e faccio un gameplay per me Dio ora giocherà in pratica giochera farà il mio lavoro per oggi e ricavato andrà a lui Che bello andiamo Vi siede un gioco difficile e complesso la pazienza durante le indagini e una buona gestione delle risorse saranno i tuoi migliori alleati In pratica sei fregato porca di una miseria allora per chiunque voglia salterò Tramite qua sotto metterò sulla descrizione in minuto per saltare la cutscene Però questa cutscene è abbastanza inquietante quindi chi non Chi si inquieta molto facilmente o stacca il video oppure salta questa cutscene Apex invece si inquieta facilmente Che falle no Oddio ma c'è un revolver Sembra una 44 magnum O un python Sembra un python Vero quello di cod È abbastanza inquietante il fatto che noi sappiamo il nome delle armi Oh no ha preso il revolver Cosa vuole fare E ora la ricarica Rulatrussa Però con tutti i proiettili Quali 44 no Perché la vedo qualcuno che sta legato Oh no Non promette bene Decisamente Io mi ricordo bene la scena perché l'ho vista nelle mie live Quindi voglio vedere la reazione di Vauxy quando vede No 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 perché c'è una persona legata No No Non farlo mostro No 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 Perché no No Ma questo è fuori è malato Cioè Oddio Questo è un matto da legare È un pazzo sadico Ma è un pazzo No 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 Eeeh No 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 Irwigo No 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 Cosa vuole fare No 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 Non farlo No 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 Ma questo è un malato Dio santo Ma No Questo è fuori È pazzo Dio santo Oddio quello è un bambino No 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 Non fanno Ma è un fuori di testa Dio santo Eeeh No No Ma Dio È abbastanza inquietante questa scena Ma mio Dio Ma che Ma questo è un matto da legare E a cazzo Dio santo Oddio ma Cos'è sangue Sembra sangue Però Dio Ma mi sa che è proprio sangue Ma mi sa che è sangue Mio Dio Ma questo è fuori Cioè è malato Un matto da legare Oddio ci sono i segni per terra Questi sono i giorni Buoh Questa è fuori di testa Dio santo Non promette bene Madonna salvami tu Ti prego Allora dietro di te Dovrebbe esserci Quella stanza lì Ok quella stanza lì Dovrebbe esserci il punto di salvataggio È un punto dove in pratica puoi essere al sicuro Te lo diceva anche se appena entri Stanza di avanzamento Questa stanza contiene tutti gli oggetti Che rappresentano i tuoi progressi di gioco Questi oggetti vengono raccolti in modo diversi In cui sul termine di un capitolo Inoltre raccolti E poi è un punto che entra in una stanza di avanzamento Oh sì Madonnina salvami tu Ti prego Ti prego Non voglio andare avanti Ti prego Ti prego salvami No No E le luci non vanno Come sempre No Che falle No E dico come succede quando non si paga Lenel Eh Oddio Mi telefono Telefono a casa Ok la mia vicina Ok la mia vicina C'è che è tardi E dice di essere un po' Anziosa riguardo le piccole cose Che discusa Mi sta preoccupando E non mi ha visto uscire di casa da tre settimane Ok Ok La mia vicina si voleva assicurare che fosse tutto bene Perché non uscivo di casa da Ok così si raggancia Ok perfetto Che si Da tre settimane Esatto Da tre settimane che non esco di casa Ma posso interagire con Figata Ma posso interagire con tanta roba Ecco Ecco così la vicina non rompe più le palle Tipo amnisia può interagire con gli armadi eccetera Si prende i bicchieri E Olè Vado E dopo chi rimette a posto Con la F Ok No buono Il demone Sicuramente ci sarà Ok il demone si divertirà a mettere a posto Sicuramente ci saranno qualche demone qualcosa di strano Ma però è bello vedere questo tipo di interazione È bello Sì Ok andiamo avanti Addio c'è Felix Felix aiutami ti prego Salva Felix Salvami Vabbè come fa Tik Tok No Cos'è Bambino È un bambino In una tenda No Ok No No Il livello di sanità Il livello di sanità Il livello di sanità Ok lo dico io Lo dico io Il livello di sanità del tuo personaggio influisce sul tuo gioco Restare troppo a lungo al buio ridurrà il livello di sanità del tuo personaggio Tale il livello è indicato con l'icona a forma di cervello che si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo Se l'icona è visibile chiaramente significa che la salute mentale del tuo personaggio è molto bassa E potrebbero accadere eventi pericolosi No Oh shit L'icona a forma di nuvola rossa appare quando si trovi in una situazione di stress psicologico Che a sua volta riduce il livello di sanità del tuo personaggio Oh no Non promette bene decisamente cavolo Se vedi il cervello sei fottuto No Accendiamo le luci Ok Ansia No Ok no E poi Gli eventi paranormali si verificano in modo casuale nel corso del gioco Impara a identificare perché ostacolano il tuo cammino e riducono drasticamente il tuo livello di sanità mentale Il livello di sanità mentale del tuo personaggio influisce a sua volta sulla frequenza di comparsa gli eventi paranormali Oh no Cioè in pratica ci sono eventi paranormali che influiscono sulla tua sanità mentale Più la tua sanità mentale è bassa Più ci sono eventi paranormali Oh no 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 Le lampadine possono essere utilizzate per riparare le lampade e i lampadali Ah ok Quindi questa Ora rilegola potremmo utilizzarla Qua Per Ah ok perfetto Ok ok Almeno abbiamo la luce La luce rimani con me luce ti prego E luce fu L'ansia L'ansia cavolo Calmo Tranquillo ce la puoi fare No 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 Ho l'ansia Andare No 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 Ok Ah ok quindi si può spegnere la radio Ok perfetto Rumori strani Non mi piace Per niente cavolo Ok qua c'è No no guarda Ah ok pillole Le peli reagiscono Da coadivulante Coadivante Per la salute mentale Del tuo personaggio Del tuo personaggio Sono essenziali per la tua sopravvivenza Quando il tuo livello di sanità è estremamente basso Rappresentano l'unica soluzione per farti rinsavire Ah ok quindi questi qua li devo prendere evidentemente Quando avrò il Quando c'hai il coso in basso a sinistra Ok Quindi ora di regola Quando inventario posso metterli Ah ok perfetto Oh sento rumori strani Ma no il fatto che quell'armadio è l'unico illuminato verso la Quale? Della luce è qualcosa di inquietante Un chiesa di armadio È solo l'armadio inquietante Mio dio Porca miseria Qualcuno però deve appagare le bollette Cavolo Cioè non si accende niente Oh Che cazzo Porca putterna Nonno no 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 io rimango qua Ok esce di casa No io rimango qua No no io non vado avanti Ti ti vuoi che puoi uscire di casa? No 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 io non vado Io rimango qua No 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 Io rimango qua no no ansia ansia cavolo no si riuscita per favore fatemi uscire fatevi uscire fatevi uscire non voglio uscire no perché andare per forza di qua no non c'è altra strada non credo ci siano la vedi se c'è una luce per il corridoio quindi a un altro che si sia capo cavolo di chi era era quel coso quel cavolo di chiede più un po di testo del subito aspetta cos'è cos'è e non ce la faccio ok no 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 c'è l'ansia io ho l'ansia quasi chiuso la porta qui ecco cos'era quel questo si chiuse la porta qui questa sì davanti però andare di qua ti poi la vedo qualcosa nel senso sento rumori strani prendi questo oggetto per iniziare un nuovo capi un capitolo per poter iniziare un capitolo diverso dovrai prima completare questo vuoi prendere l'oggetto come no si bagga dentro la porta però è un orsetto non se si vede che è un orsetto capitolo di lussi permesso un salve solo una persona per bene no no cos'è no no non posso tornare indietro porto no e mo non esco più basta addio non esco più mio santo che ci sono i peluche peluche che bello ma chi si accende quella luce di e poi solo quella o le oddio si è aperto qua no armadio no si è aperto l'armadio no cos'è sto robo knock 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 a dio ma sto bussando io si farei bussando oh no 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 luce non fare scherzi luce oh che cazzo porca di una miseria no 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 ti conviene mi conviene restare oddio la porta no 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 avete capito proprio male io non ci vado avanti col cavolo col cavolo che ci vado avanti no no si può andare di là tipo no di qua ma si ci può andare no non ci sono luci qua no 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 come si accende la luce come si accendo dove si accende la luce oddio si le pillole si 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 mi metto qua ma si possono mettere tipo insieme ok gli accendini sono utilizzati come fonte di luce minore per esplorare la casa e hanno una durata limitata questi oggetti non contribuiscono a ridurre il tuo livello di stress psicologico se rimarrà al buio solo con un accendino acceso il tuo livello di sanità mentale diminuirà possono essere usati anche per accedere il candela ok quindi questo qua sarà tipo un atto anche perfetto quindi se non serve ma non serve si mi farà praticamente vedere dove vado almeno quindi e poi luce si abbiamo la luce ora ok quindi così come si possono mettere insieme ok cos'era ho sentito un suono bruttissimo non mi piace no 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 è di sotto viene da di sotto no no vedo di sotto no io non ci vado non ci rimango guarda siamo un vampiro non c'è il riflesso sono vampiro olle sono invisibile oddio o no cos'è qua è tipo dove ha bussato o no questo prima non c'era aiuto no si chiusa anche la porta del bagno no prima era aperta oddio è vero no ho paura no non voglio andare avanti ah si è aperta anche la porta lì no qua prima c'erano delle chiavi ho visto no non ci sono più a che succede no adesso salve giorno giorno che cristo no 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 che viene qualcuno no io c'ho paura no no Gesù 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 aiuto aiuto questa casa in memoria ti prego aiutami no però aspetta mi non è da fuori che chiedete oddio si chiavi nel gioco troverei due tipi di oggetti oggetti chiave oggetti dinamici gli oggetti dinamici vengono conservati quando possibile in inventario dinamico In generale possono essere scartati Gli oggetti chiavi sono essenziali per il tuo avanzamento nel gioco E vengono conservati nell'inventario chiave Ah ok Quindi ecco perché l'inventario Ah ok perfetto Quindi ecco perché l'inventario Questa cosa verde Ok perfetto Quelli dinamici sono quelli che puoi usare Ma aspetta mi sono accorti una cosa Guarda la televisione Oh no C'è un'ombra Dove? Quale ombra? No Questa qua è una zona, una stanza No no ma notami la porta Notami la porta Oddio no 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 L'ho vista ora no 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 Si ma hai notato L'hai notato fuori che le chiede se non deve essere interrato Io rimango qua Questo è il semi interrato ora Di qua Oddio sento passi No Questo qua No che non si può andare perché c'è È bloccato È bloccato Quindi qua devo Usare le chiavi Uh No 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 Ah un altro accendino Dov'è? Ah Yeah Oh yeah Oh yeah Doppio accendino Cos'è? Cazzo No 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 mia sanità mentale sta aguantando No 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 Ti vuoi restare la luce La luce la luce La luce la luce Guarda che hai acceso due accenditi Si consuma tutte due Porca di una miseria Mettiamo qua No mi tengo solo uno in mano Ah 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 Ansia 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 cavolo Che qua Ok che avessimo interrato Quindi posso starlo anche qua Olè Ok Qua siamo ancora in salotto però Quindi Sono interrato dovrebbe No No Che cazzo Zitta radio di No 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 Veloce 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 Luce luce Uh No 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 Meglio che prendi le pillole Si vede già il cervello No 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 Pillole Accendi Ok Oh oh Cos'è sto rumore No Che va dall'altra parte Non promette bene quel rumore No 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 Ok ok Vai veloce veloce Apri 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 patti Ok Uff 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 No, chiave garage No, 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 no No, devo andare dove stanno In questi versi strani No Ansia No Hello Hello Salve No, ti prego No, cosa sono questi rumori No No, 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 no C'è qualcosa là, lo sento, no No, andiamo di qua, no, no, no No, ti prego No No, c'è qualcosa là, lo sento Ok, ti tocca andare là No, 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 no Si va tutto tipo di là No, di qua No Devo andare per forza di là No Si No, no, no Io non rimango qua C'è la luce Si, c'è la luce Ancora No, io non rimango qua No Oddio, che schifo Mandino Bruttissimo Non è un bel posto stare qui, eh? Decisamente Ma nemmeno lì Se n'è andata Porca di una miseria No Che cazzo Oh, ma guarda dietro Senti Oddio Sì, c'è la macchia fotografica Si può prendere Uh, si può prendere Ma Vai Ah, figata, posso Posso fare i flash Oddio, nice Uh Oxy Cos'è quell'affare? No 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 Cos'è quell'affare? No, 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 no 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 No, io me ne vado No, no, no Vai via Sciò Sciò Dannata bestia di satana No, la centina Dove cacchio? Ma Oddio, si era bloccato No Oddio Cos'è? Oh, no Puttana, Evo No Anzi No No, 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 no Devi avvicinarti Devi avvicinarti No, non voglio No Ti tocca Dove va Dove va la scia? No No Non farvi male No No, per favore No No Vai via Sciò Aspetta, aspetta Aspetta No Cosa fa No Che cavolo ha Oddio Spezza, hai in mano qualcosa Oddio, no Ha buttato per terra qualcosa Si, la vedo No No Se ne sta andando Vai via Sciò Via, se no ti fotografo Stronto Via No 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 Ok, ok Torna tutto normale Cos'era? Cos'è? Oddio, una siringa Oddio Che cavolo Che cavolo Una mega siringa Segui la scia Segui la scia Fotografo la scia Ah, ecco questa qua Ok, ok Ho visto prima la scia No Ma sopra No Calma Se la puoi fare Se la puoi fare Madonna, aiutami Ti faccio una foto in cambio di aiuto Per favore Per favore Permesso Salve No, come l'accendino Come l'accendino e scarico No Eh, ma come Premi F Premi F Premi F Sì Ah, ok Ah, ok, posso buttare Ok, ok, ok Ok, girati Girati Oh, scia dove è andata Devo spostare questo Devo spostare questo Molto brevemente Perché qua Ci bloccava la strada Sì, ma Bosta Ok Ok Olè Andiamo Verso nuove avventure Oh no C'è ancora la scia No Ok, la scia va su No Oddio Che cavo No Ladio, basta No No, su Su E sopra Ok Vatti qua No 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 Luce No 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 No, eh No, eh Eh, no, eh Ok, da quella Eh, no, eh No 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 Accendi sto cazzo D'accendino No No Porca di una Cos'era Così No 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 Accendino Accendino No 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 Accendino Accendino Non si può accendere la luce Cazzo No, mi tocca andare per forza qua No Ciao quella faccina No La porta seria aperta, eh No 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 C'è qualcosa La scia Ok, c'è ancora la scia Però Oddio Ah Luce rossa Uh, sì, è vero Qua Oddio What the fuck Oddio No, vedreste qualcosa dietro sta cazzo di porta Oddio Oh 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 Wtf Oh Che cazzo Ma C'è il mio personaggio Tipo Ora stai Oh, la porta Dove Vedi cosa succede Vedi cosa succede Vedi cosa succede Il vedere le droghe Cavolo Porca miseria Vedi Non dovevi prendere quella siringa Pilt Colpevole Oddio Quanti orsetti Ye Gli orsetti Ye E funghetto Meglio io senti che una ragazza Invece che ti mette siringa Beh decisamente Cavolo Oddio Mi sta fissando male Paura Ora sbuca qualcosa No No Ti prego No No Ti prego Che mi prendo gli infarti Poi muore per terra E fine Dio Dio Oh che bello Ora mi ci metterò là E non andrò più avanti Rimarrò là per sempre Ansia Ok Ye Che bella casetta Ora rimarrò qua per sempre Che bello Con gli occhi che ti pistano Oh no No Ansia No Pico I'm Lassi Hello Lassi I want to be your friend Lassi Oh no la radio di prima La radio di merda No che fattore Ebbè a proposito di radio di merda Guarda lì in parte a sinistra No No la radio c'è ancora Dio santo ho sbagliato No C'è la cacchio di radio Dio santo Incazzata Questa è la casetta La riconosco No Ti sarai andato a finire nel posto sbagliato No 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 Cos'è E c'è tipo qualcosa Dietro No Oh una chiave Oh Hai trovato una piccola chiave Una chiave Eh la chiave che ho trovato Ok Oh no No Questa è tipo Quella con la silinga di prima Oddio No sento voci No Che cazzo No 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 vai via Vai via Vai via Vai via Sparisci No No Fuggire la finestra Fuggire la finestra No No Oddio No 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 Tu non puoi stare Sparisci No 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 Visto cosiddetto agitato No, no, vai via Sparisci Succede qualcosa Dio, no, 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 no No, no, no No, 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 no Vai via, sparisci, brutto demonio Via, sparisci No, sparisci, sparisci, cazzo Sparisci, vai via No, no, no No, ho visto qualcosa Ho visto la finestra No, 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 no No, ho visto qualcosa la finestra Oddio, c'era qualcosa No, c'era qualcosa là No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cosa ho visto per terra? No Tutti gli interruttori? Ok, no Come it? No No Io non circolo Non ci sono più, no, no No No, 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 no Basta, Dio santo. E dai, sei solo all'inizio, dai. Come sei solo all'inizio? No. È solo all'inizio questo? No, come sono all'inizio? Decidi, vuoi continuare oppure facciamo la prossima volta? La prossima volta, non ce la faccio. No, 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 basta, 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 basta. Abbiamo qua. Salva. No. Ok. Abbiamo fatto 33 minuti, cazzo. Beh. Dai. È 33 di ansia, sicuramente, ansia. Forza di più, forza di più di ansia. Porca miseria. Dio santo, no, eh. È inquietante sto cavolo di gioco, basta. Doxy. Ehi. Senti l'audio? No, no, c'è qualcuno che fia... No, basta, basta, io... Basta, muo' esco. Torna meno, torna meno, torna meno, torna meno. Basta, 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 Dio santo, basta. Ok. Finiamo così con questo piccolo gameplay che ho fatto da Vauxy e spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se volete vederne altri, basta sotto, scriverlo sotto i commenti. No, 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 no. Facciamo direttamente così, se arriviamo a 50 mi piace su questo video, Vauxy continua. No, 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 no. 50 mi piace, ragazzi, Vauxy continua Viseige. No, 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 no. No, no, no. E visto che il video è tuo, allora ti faccio a fare l'outro, dai, dai. Bene, ragazzi, niente, questo era Viseige, Dio santo. Gli infarti di sto cavolo di gioco, perché il problema di sto gioco è che proprio ti entra nella testa, cioè, ti mette cavolo ansia psicologica. Cioè non è tanto il fatto di quello che accade Ma di quello che potrebbe accadere In un certo senso Io ho la caga di tutti i cavolo di jumpscare Che potrebbero apparirmi davanti Perché non so effettivamente come cavolo è il gioco E' proprio lo stesso psicologico Di questo gioco stesso E' proprio la paura Esatto esattamente E quindi niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come cavolo mi sono spaventato Che mio dio sto ancora tremando E niente ci si becca al prossimo video Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti